Ci si richiede dunque un nuovo sforzo di coesione nazionale e un concreto impegno per garantire la pace anche al di fuori dei confini della stessa Europa, per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 ! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti!